C'è anche Valle Lunga Pratameno tra i luoghi coinvolti nei borghi dei Tesori Fest 2022. Il 27 e 28 agosto dalle 17 alle 20, sabato 3 settembre dalle 10 alle 13 e domenica 4 settembre dalle 17 alle 20, si potrà visitare una scuola di fino a 800. Nel Borgonisseno infatti si potrà entrare in un casamento scolastico che in passato è stato sede della scuola elementare e dove adesso è presente un'aula scolastica ricostruita, riproducendo quella di un tempo nei minimi dettagli. Si potranno rivivere quei momenti di fino a 800 con la simulazione di un'interrogazione con segna della pagella monarchica personalizzata. Altri siti storici del comune Nisseno di Valle Lunga vengono inseriti nella manifestazione e cioè la chiesa madre, il complesso delle anime sante che abbraccia due chiese settecentesche e il Museo Etnografico Salvatore Lorè, dove sono conservate le testimonianze della civiltà contadina dell'Ottocento e del Novecento.